All'Accademia di Equitazione Un posto molto in voga Spero di dare Blue Boy a mia figlia come regalo di compleanno All'Accademia di Equitazione All'Accademia di Equitazione All'Accademia di Equitazione E' stato rubato il famoso Blue Boy Ci sono 5.000 dollari di ricompensa Il proprietario vive a Collinwood Place al numero 46 All'Accademia di Equitazione Abbiamo recuperato il vostro quadro Blue Boy Riportatemelo subito Congratulazioni I nostri eroi hanno riempito Blue Boy di Biada E lo hanno riportato al legittimo proprietario Abbiamo portato il nostro Blue Boy Abbiamo portato il vostro Blue Boy Abbiamo portato il nostro caro di peso Abbiamo portato il nostro caro di appropriately distrambio idei All'Accademia di stadio Abbiamo portato il nostro caro di county All'Accademia di expectations All'Accademia diamientos La casa è sua ed anche il cavallo Faremo come lui dice Grazie a tutti 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 Fanno tutto il contrario Fanno tutto all'opposto Vi dispiace metterlo sul pianoforte? Grazie a tutti 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 Scusi, ma c'è mai stato prima su un pianoforte? L'ho sempre tenuto lì sopra Grazie a tutti 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 Tirate a tutti Grazie 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 a tutti